Ciao a tutti, bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italiano Negli ultimi giorni Jessica e Baru sembrano sempre più vicini Anche questa sera è arrivato il momento di parlare d'amore. Lulu infatti ha voluto regalare alla sorella Jessica un momento di privacy con Baru, cos'è successo nella capanna dove hanno trascorso la serata? Ma partiamo dal principio, non riesco a capire cos'abbia Baru nei miei confronti, lo vedo strano e freddo, queste sono le paranoie di Jessica negli ultimi giorni nella casa Addirittura la principessa crede che Baru, avvicinandosi a lei, abbia adottato una strategia solo per arrivare in finale, ma se lei non è d'accordo, anche lei è stata la prima a dire che voleva una relazione all'interno della casa per aver più visibilità Ma ad un certo punto i due sembrano riavvicinarsi, ora sta sorridendo ed è bello quando sorride dice Baru su Jessica Dopo aver mostrato la clip, Alfonso torna in casa e la sua curiosità è alle stelle, Jesse, cos'è successo sotto quella capanna? Ci siamo solo abbracciati, non c'è stato nessun bacio, risponde la principessa A volte un po' di calore umano fa bene a tutti, ribatte Baru Dallo studio interviene anche la sorella di Jessica, Clarissa, grazie a Baru Jessica ha riscoperto l'essere femminile ma non deve passare che sia solo lei cotta di lui Ma insomma, la capanna avrà cambiato un po' il rapporto tra i due coinquilini? Chissà se fuori dalla casa ci sarà un futuro Baru non sembra essere molto ottimista.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video